Le immagini di quel 24 gennaio del 2017 all'Aquila sono impresse nella memoria collettiva. Intorno a mezzogiorno comincia a circolare la notizia dell'elisoccorso del 118 uscito per un intervento di soccorso che aveva fatto perdere le tracce nella zona di Campo Felice. Dopo un'ora di speranza, purtroppo la certezza, l'elicottero con sei persone a bordo a causa della nebbia era finito contro la roccia a Monte Cefalone, tutti morti. Una tragedia enorme con l'inchiesta archiviata nel 2018. Nessuna responsabilità, eccetto quella del pilota, morto anche lui nello schianto. Nell'incidente persero la vita Walter Bucci, medico rianimatore del 118, Davide De Carolis, tecnico dell'elisoccorso del soccorso alpino, Giuseppe Serpetti, infermiere, Mario Matrella, verricellista, Gianmarco Zavoli, pilota, Ettore Palanca, lo sciatore che si era infortunato. È il giorno del ricordo a cinque anni della tragedia. La centrale del 118 ha organizzato una messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Coppito dal Vescovo Sidiare Monsignor Antonio D'Angelo e concelebrata con padre Luciano e don Giuseppe. Alla messa tanti amici e colleghi, a partire dal dottor Gino Bianchi, responsabile del 118, stretti nell'abbraccio ai familiari. La presenza dei nostri amici è costante. Pensate che all'interno della centrale operativa, in una sorta di pantheon, ci stanno le loro foto, le loro immagini, che ci ispirano in continuazione per quando riguarda il nostro lavoro quotidiano e quando, soprattutto nelle circostanze più complesse, ci ispiriamo a loro. Dice, dobbiamo farcela anche per rispetto dei nostri amici. Impossibile dimenticare quel giorno. Erano gli stessi giorni, peraltro, del terremoto dell'Alta Valle dell'Aterno e di Rigopiano, pochi giorni prima di salire su quel giro del 118 mortale. Infatti, Bucci, De Carolis, Matrella, erano stati a prestare soccorso proprio al Rigopiano. Tra i banchi della chiesa, anche l'ex manager Rasler, Rinaldo Tordera, il professor Franco Marinangeli, il direttore sanitario Alfonso Mascitelli, per il comune l'assessore Fabrizio Taranta. Alcuni dei quali, tra i quali Walter, erano appena stati a soccorrere tra i primi dopo l'incidente del Rigopiano e la tragedia del Rigopiano. Erano lunedì come oggi, più o meno intorno a quest'ora. E' veramente un dovere ed è un grande piacere, nella tristezza, essere qui a ricordare questi nostri amici. Veramente bravi, bravi. Una ferita che non si rimargine, una ferita che rimane, ma un ricordo che deve servire a migliorare, diciamo così, la sicurezza nei luoghi di lavoro. In fondo, un mezzo di soccorso, un elicottero, è un luogo di lavoro mobile che lavora, peraltro, in condizioni difficili. E quindi vanno capite queste condizioni difficili, ma soprattutto si deve lavorare affinché non accadano più queste cose. Certamente è una grande tristezza perché abbiamo perso grandi persone. Grazie. 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 Grazie.